L'assessore alla mobilità Francesca Pierotti e Luca Cesaretti per Metro SRL hanno incontrato a Palazzo Orzetti i rappresentanti degli ordini professionali e le associazioni di categoria per far conoscere Europark, il nuovo prodotto di metro che consente una sosta comoda, conveniente e sicura nei parcheggi con parcometro. L'incontro è servito per presentare le comodità che Europark può offrire a chi si trova a dover parcheggiare spesso in centro per motivi di lavoro. I parcheggi con parchimetro sono stati suddivisi in 5 zone. Una volta parcheggiata l'auto sarà sufficiente settare lo strumento individuando sul display l'area in cui abbiamo intenzione di lasciare l'auto. Metro Park è aggiornato con tutte le tariffe attuali, cosicché una volta impostato inizierà a scalare il credito automaticamente. Una volta tornati all'auto sarà sufficiente premere il punzante apposito per disattivarlo. Si tratta di un autoparchimetro individuale che si ricarica con carte prepagate, studiato per l'esigenza di tutti gli utenti. Può essere utilizzato in tutti i parcheggi a parcometro sia dentro che fuori le mura e si adegua a tutti i tipi di tariffa. È l'ideale per gli utilizzatori che sanno quando lasciano l'auto in sosta e non sanno quando tornano a riprenderla.